Attenzione ragazzi, pare che Alessio Sakara abbia firmato con la Bar Knuckle Fighting Championship, ovvero la promotion di box a mani nude. Secondo la Gazzettona, infatti, una nuova carriera per Alessio Sakara. Il primo treta italiano di MMA a combattere in UFC debutterà in Bar Knuckle Fighting Championship il prossimo 26 giugno in Florida. Non è stato ancora reso noto il nome dell'avversario, ma si sa già che sarà un match al limite dei 93 kg sulla distanza di 5 round da 2 minuti ciascuno. Ora, spiegando che cos'è brevemente la box a mani nude, praticamente si tratta di box senza guantoni, con dei bendaggi che però lasciano libere le nocche e degli adattamenti al regolamento che comunque ne fanno uno sport a sé stante. Infatti abbiamo visto Artem Lobov, lo scarsone dell'MMA amico di McGregor, vincere contro Paul Maginaggi, che è stato un campione mondiale di box, quindi è uno sport da combattimento diverso da tutti gli altri. Ed è lo sport che certifica ad Alessio il record di fighter che ha provato più sport da combattimento in Italia. Quindi un'altra medaglia nel palmarès di Alessio Sakara è secondo me anche un'ottima scelta, perché la Bar Knuckle sicuramente ha un'estetica molto cruenta, ma non è più rischiosa degli altri sport da combattimento. E ci sono tanti tagli, quello sì, e anche tantissime fratture alle mani. Però a parte questo, secondo me Alessio può anche sentirsi a suo agio a livello stilistico, dato che viene dalla box e dalle MMA che gli offrono il giusto mix per questo sport. E poi è anche un po' una chiusura di un ciclo, perché Alessio Sakara ha iniziato questo percorso quando ancora le MMA erano in fase embrionale ed era uno sport molto crudo. E chiudere con uno sport altrettanto crudo potrebbe essere la scelta più bella anche dal punto di vista, non lo so, scenografico. Con questo però pare che Alessio voglia continuare a combattere anche gli MMA, quindi nonostante i suoi tre match firmati con la Bar Knuckle Fighting Championship potrebbe continuare anche la sua attività in Bellator. Perciò pare proprio che il legionario si stia preparando ad un'intensa stagione di battaglie. Detto questo fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, ditemi se secondo voi è la scelta giusta, se secondo voi può fare meglio dell'MMA o viceversa. Noi ci rivedremo fra breve per parlare di quello che è successo tra Marvin Vettori e Adesania in Hotel. E nel frattempo se ancora non l'avete fatto con il link che trovate in descrizione passate dal Patreon dove troverete l'intervista tradotta in italiano tra Marvin Vettori e Adesania dove sono volate le offesone. Quindi mi raccomando Fight Experience, non quell'altro livello perché ho visto che tanti si sono sbagliati. E niente, un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. Ciao!